Buongiorno, eccoci con il solito aggiornamento ciclico settimanale. Iniziamo dall'indice S&P 500, vedremo anche velocemente il Nasdaq. Prima vi ricordo che sarò presente in Investing Roma l'1 di ottobre, dove parlerò di criptovalute. Criptovalute, mercati regolamentati e dove l'analisi tecnica è più efficace, in sala Investing dove 10.30. Online si può comunque seguire il mio intervento, ho un intervento molto interessante sulle criptovalute. Quindi Investing Roma, sul mio sito, investimenti vincenti, trovate tutti i link. S&P 500, il ciclo sarebbe partito il 19 di intermedio, il ciclo intermedio 19 di agosto, ma ha fatto un minimo inferiore. Per l'Europa, lo vedremo dopo, sembra meglio la partenza il 19 di luglio, ma comunque ci sono, qualsiasi sia la partenza, ci sono sempre delle situazioni cicliche che creano un po' di confusione. Detto questo, comunque, il fatto che il minimo, sia in America che in Europa, non però sul Nasdaq, ve lo faccio vedere qui, il Nasdaq non ha fatto un minimo inferiore, ma l'S&P sì, il minimo del 20, ci dice che si sta indebolendo tutte le strutture cicliche. Ora, qui sembrerebbe partito un nuovo ciclo mensile, quindi può rimanere mediamente forte, forte, comunque, rimanere in recupero fino a questa settimana, poco oltre, poi attesano un nuovo indebolimento, ma non subito, comunque, manca ancora una fase di debolezza. Il ciclo settimanale è partito il 20, con una struttura un po' anomala precedente, legata anche a decisioni, alle parole delle banche centrali, quando parla Fed e BCE, ma soprattutto Fed, i cicli possono essere completamente stravolti, ricordo che i tempi, i prezzi, cioè le forme cicliche, non ci possono dire il futuro. Questo è un'idea che hanno solo delle persone un po' invasate dei mercati. Il passato non ci dice il futuro, il passato, con tutte le sue caratteristiche, ci dice gli scenari più probabili o meno probabili del futuro, e più probabile non vuol dire certo, e meno probabile non vuol dire che non avverrà. Detto questo, ciclo settimanale, dopo quattro giorni e mezzo di rialzo, oggi sta scendendo, ci sta, come lo dice anche il second elevator, ci sta tutto e potrebbe rimanere mediamente debole fino a domani mattina o primo pomeriggio, per trovare un minimo finale del ciclo settimanale. Poi riparto un nuovo ciclo settimanale, così capite come ragiono, e come poi faccio trading, vi faccio vedere anche il ciclo giornaliero, guardate il ciclo giornaliero, come attendeva una parte di debolezza in questa fase. Questo è il ciclo giornaliero, che non sto qua a commentare perché è ciclo troppo breve, lo faccio sul mio sito per i miei abbonati ai miei report. Comunque la struttura è debolmente rialzista in generale, il ciclo settimanale invece deve chiudere, quindi manca ancora una fase di correzione, poi un nuovo recupero con il nuovo ciclo settimanale. Passiamo ora all'Eurostox. Eccoci sull'Eurostox, dove il ciclo, sembra più corretto farlo partire il 19 di luglio, 19 luglio minimo, 19 di agosto minimo, 20 di settembre minimo, cicli mensili che si ripetono, però ci sono delle strutture comunque poco chiare in precedenza, mi resta sul chi va là, ecco, dal punto di vista ciclico. Anche qui minimo è inferiore a quello del precedente mensile, quindi adesso non mi aspettano i minimi a breve, ma magari già dalla prossima settimana potrebbe essere un indobolimento che porta nuovi minimi sotto quello del 20. Ci potrebbe stare, perché la struttura è un indobolimento, sta facendo minimi decrescenti e massimi decrescenti. Dal punto di vista ciclico poi se lo sta facendo in tempi piuttosto idoni. ciclo settimanale, anche qui il parito del 20, ha fatto 5 giorni immediatamente di forza, ci sta oggi che rimanga debole, fino a domani pomeriggio chiude il ciclo e poi un po' di rimbalzo. Ma le strutture, vedete, a rosso qui, in realtà è in orizzontale però, prima era rosso, quindi discesa a rosso, a rosso e anche questo a rosso, anche sull'SMP più o meno era così, c'è la struttura ciclica e in deterioramento. Quindi, alla domanda, i massimi precedenti possono essere aggiunti? che è poco probabile, impossibile non lo posso mai dire, ma poco probabile perché la struttura ciclica è in deterioramento. Passiamo ora al future DAX. Eccoci sul DAX, prima però vi ricordo il mio sito investimenti vincenti, dove tutti i giorni faccio report, fine settimana, faccio 10 alla settimana. Se vi iscrivete alla prova, vedete quanto, come, che cosa, perché scrivo, scrivo di opzioni, analisi intermarket, è molto alto, quindi è molto interessante. Quindi andate a vedere sul mio sito cosa scrivo. Tornando a noi, qui addirittura il DAX, che ha cambiato da 30 a 40, però qui, secondo me, pesa anche la questione Cina, ha fatto un minimo, doppio minimo, rispetto a quella di luglio. Quindi la situazione è ancora più in deterioramento sul DAX, rispetto alle Rostox. E quindi potrebbe anche scendere in maniera più violenta, sotto 15.000 dopo, e anche più precipitosa. però, insomma, tutto è legato anche a quello che farà il mercato americano, ovviamente, stante il fatto che ci sono due strutture cicliche leggermente differenti, ma sul ciclo mensile, cioè tutti i mercati hanno fatto un minimo il 20 settembre, e lì perché un sotto ciclo mensile, qui c'è poco da dire. Qui, a vedere gli indicatori ciclici, sembrerebbe, sono meno rossi di quelli dell'Everstox, però ecco perché serve un professionista per interpretarlo. Questi sono degli indicatori ciclici di, come si dice, un po' grezzi sul Cycle Navigator, e anche guardando la struttura multiciclica, si riesce a capire molto meglio. Il DAX è decisamente più deteriorato come struttura, anche più del Fuzimib, che lo vediamo fra poco. Ciclo settimanale, anche qua, 5 giorni leggermente rialzo, oggi, barra, fino a domani pomeriggio, correzione, però un minimo, e poi un po' di recupero nuovamente. Passiamo ora al FIB. Eccoci sul FIB, dove qui vedete, qui blu, blu, cioè sembra quasi meno debole l'Everstox, in realtà la struttura è abbastanza simile all'Everstox, ma effettivamente un po' meno debole, perché il minimo del 19, del 20 settembre, è sì stato in fruola a quello di agosto, ma molto più distante da quello di luglio. Quindi la struttura ciclica è in deterioramento, anche qui, ma meno, se vogliamo del DAX sicuramente, e leggermente meno dell'Everstox. Comunque, anche qui, se gli altri vengono giù, verrà giù anche questo, ma diciamo, dalla prossima settimana in poi sono i tempi migliori. Forse anche dopo, magari settimana prossima, attraverso la lateralità, poi passata la settimana, dopo l'8 di ottobre, ecco, lì andiamo nelle zone in cui ci può essere maggiore correzione. ciclo stimolare uguale, 5 giorni mediamente forti, oggi leggermente debole, potrò farlo anche domani, trovo un minimo conclusivo e si riparte. Sempre ipotesi sono, io non ho certezze, sto dicendo quello che in base alle strutture cicliche, in base all'interpretazione del mio software, Salesforce Navigator, che ho costruito io, sono più probabili, che non vuol dire certo. Passiamo ora all'euro-dollaro. Ecco l'euro-dollaro, qui la struttura è poco chiara, però sembra partito intorno al 21 di luglio, poi il minimo il 19-20 di agosto e poi un altro minimo importante, il 20 di settembre, però sta già scendendo. È una struttura non molto chiara, lo devo dire, però è in deterioramento, quindi si può continuare mediamente in debolezza, fino alla chiusura ciclica, quindi fino a circa la metà di ottobre, può continuare mediamente debole, questo mi dicono le strutture cicliche. Il ciclo settimanale invece sembra non terminare mai, stiamo aspettando che chiuda un benedetto ciclo settimanale che si sta prolungando, trova un minimo, fa magari due giorni di recupero, ma la struttura ciclica superiore è in debolezza, quindi qui sono più probabili, sottolineo probabili, non certi, ulteriori fasi correttive del ciclo, a parte a meno un paio di giorni di rimbalzo per l'inizio del nuovo ciclo settimanale. Ecco, come capite, i cicli più brevi mi dicono su base a cosa può succedere all'interno dei cicli più grandi dove ci possono essere fasi di rimbalzo o comunque fasi di inverse, parziali invertite rispetto al trend, ma i cicli superiore e quelli in alto mi dicono qual è il trend fondamentale. Tra l'altro guardate qua l'oscillatore come prende bene la struttura, ma non è sempre così, cioè i migliori sono sul second navigator. Quindi la struttura è così. Passiamo ora al Bund. Ecco il Bund, qui lasciate perdere questo buco dovuto al cambio di contratto, che comunque qui di fatti non c'è, qui non c'è perché questo è il contratto solo dicembre, il Bund che continua a scendere per la questione evergrande e per la questione inflazione. scende il prezzo, sale il rendimento. Quindi è una struttura ciclica poco chiara, però sembra partito l'11 di agosto, adesso ce ne rendiamo conto, non adesso, da un paio di settimane, ed è già debole, prima sembrava una struttura diversa e questo può continuare beniamente debole. Può avere giusto un rimbalzo, perché? Perché deve finire un ciclo settimanale, che sembrava finito ieri, invece ancora fa un minimo inferiori, e soprattutto deve finire un ciclo metà trimestrale. Io mi aspetto che a breve possa finire questo ciclo, è un ciclo inframezzo che dura la metà del ciclo intermedio, cioè sarebbe il ciclo che si vede da qua. Trova un minimo, fa un po' di rimbalzo, e poi ancora un debole, anche qui la struttura è decisamente deteriorata, quindi mercati di strutture deteriorate, euro a dollaro è deteriorata, a Bund è difficile pensare che tutto scenda, ma le strutture sembrano più così, a parte qualche rimbalzo momentaneo. Chiudiamo come al solito col bitcoin. Ecco il bitcoin, struttura che si sta deteriorando anche per la questione Cina, ma ci sta, è partito da oltre due mesi, è partito il 21 di luglio, anche qui, 21 luglio, il 20 l'ha fatto il minimo all'S&P, poi ha fatto un minimo il 19-20, dove l'ha fatto anche l'S&P, qui sta cambiando perché sta facendo dei minimi inferiori, però se andiamo a vedere, scusate qui c'è qualcosa che non quadra, eccolo qua, qui si vede, il 21 ha fatto un minimo qua, tra il 21 e il 22, qui, eccolo qua, quindi simili comunque il 20 e l'S&P. Sta di fatto che si sta deteriorando, ci sta dopo due mesi che è partito, oltre due mesi, quindi potrebbe rimanere, non mi aspetto che continui verso 30.000, però potrebbe stare in un trading range più basso, cioè tra la parte alta, 45.000 e 37.000, e comunque perdere ancora un momento. Poi, ecco, diciamo intorno alla metà di ottobre o poco oltre, mi aspetto la parte del nuovo intermedio, lì mi aspetto forza, vedremo poi di volta in volta. Ciclo settimanale, poi tolto il 22, qui dura circa 9-10 giorni, che è aperto anche il sabato e domenica, non va da nessuna parte, probabilmente continuerà così ancora per un paio di giorni, finisce, e poi magari fa un leggero recupero. Però anche qui la situazione è in deterioramento. Bene, vi saluto, vi aspetto a Investing Roma l'1 ottobre, io parlerò di criptovalute, in sala Investing alle 10.30, si può anche vedere online, Investing Roma, il mio sito Investimenti Vincenti, per chi è interessato a vedere cosa e quanto scrivo, e il software Cycles Navigator, per i professionisti dell'analisi ciclica. Ci vediamo, come al solito, nei vari appuntamenti, chi è a Roma, ci vediamo direttamente a Roma.